In principio era il suono, il suono era presso Dio e il suono era Dio. Chi sei tu? Mi chiamo Maria, vengo da Magdala. Perché li hai cacciati tutti da me? Sento freddo ora. Maria, Maria Maddalena, verrà il giorno in cui il mio sangue sarà tuo. Ma che dico? Ma che dico? Ma sono parole o scusi? Anche tra le donne, se ti degna di menare i fianchi, te lo chiami vegliare, la posseduta comincia a indottrinarla, mi sembra. Bene, il famoso Gesù finalmente si manifesta e i suoi gesti sono gli stessi di una prostituta. Sarebbe questa la casa di preghiera per tutte le nazioni! Voi! Voi ne avete fatto un cavo di ladri! È necessario si compia ciò che è scritto nei testi sacri. Le persecuzioni, le torture, la condanna. Morirà, Maddalena, e sarà presto! E allora perché mi hai cercata? Che cosa volevi da me? Io ancora non lo so. Non so cosa servono queste mie mani, questa mia bocca, questi miei occhi. E ora? Chi sei? Molto ore mi ha ciò che si Nissan fu een città. O ero più o renamed to Verga, Maddalena. E ora? Chi sei? S cerche di questo video. Grazie a tutti.